Oggi raga stiamo tornati con Calpis e notate un pochettino la novità delle novità No, non il fatto che sono uscite le macchine su Fornit, il fatto che mi sono colorato i capelli Ok, so che non gliene frega niente a nessuno, i capelli raga sono tornati mezzi blu, finalmente Direi che, insomma, quel verde di prima faceva abbastanza schifo, quindi raga i capelli sono tornati mezzi blu Fatemi sapere dei commenti se vi piacciono, ma non è questo appunto l'importante Perché oggi raga sfrutteremo insieme a Calpis le nuove auto di Fornit E proveremo a raggiungere i 100 km orari Calpi, te lo dico, voglio raggiungere la massima velocità possibile Ma con tutte? No, aspetta, con tutte direi che è impossibile, il camion a 100 km orari non lo farai mai andare Però la Lamborghini direi che può andare come a 100 km orari Io ti dico che la mia top speed è 86 86 Se facciamo una bella rampa Se facciamo una rampa è enorme Calpi E facciamo qualcosa di fatto veramente bene, raga, secondo me a 100 km orari ci arriviamo Comunque l'obiettivo Calpi è andare a Samy Sudate perché dovrebbe essere una città in cui si trovano Comunque sia molte auto, poi abbastanza, ecco, non troppissime però abbastanza Io raga intanto vi ricordo, prima di iniziare, non dimenticate Corice Cup, nei negozi oggetti su supporta cartone, solo per veri capitali Mi raccomando, raga, vi lancio una sfida Due minuti di tempo per aprire Fornit su porta cartone Ed inserire il corice cup Fatevi sapere nei commenti se ce l'avete fatta e vi ricordo Che ogni 14 giorni scade Ah, e mi raccomando, raga, se hai ancora ritrovato, iscrivetevi al canale Ma, eh, Calpi, scusa un secondo Samy Sudate non è cambiata, vero? Dovrebbe essere qua Oh, 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 Calpi, avevi ragione È pieno di macchina, Samy Sudate Io ho già visto la Lamborghini Calpi, ho già visto la Lamborghini, quindi io sono l'uomo più felice What? Ci sono altre macchine? Di dentro c'è la Lamborghini, ancora dentro il garage Ma che dici, Calpi, qui c'è un'altra Lamborghini, allora Ma quante Lamborghini ci sono? Scusa un secondo Penso tu, vabbè, una per due Penso qui che mi ha rubato il camion, Calpi mi ha rubato il camion, ok Io, Calpi, ho la Lamborghini Vediamo innanzitutto, Calpi, sul dritto, appunto Qual è la vera top speed della Lamborghini? Regà, non primo nient'altro 76, 78, 80, ok Sul dritto, la Lamborghini fa circa 80, Calpi 80, che non è male, non è male Non è male, regà, per niente, anzi Proviamo dall'altra parte Beh, per la Lamborghini è poco Beh, ok, certo, è normale, però nelle misure di Fortnite direi che non è male, insomma Come misura, vai, 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 vai 79, 80 81, 81, Calpi È la top speed estrema Che appunto ho toccato sul piano Poi dopo sale veramente, veramente lento Allora, Calpi, ti prendi una bella GP Orca, cacchio, orca Hai laggato? Sì Sì, sì Sì, sì Ma, ma, città, l'agga Tutta colpa del lag, Calpi Non è, ah, guardati, dico Io me la so giocata veramente in maniera impeccabile Peccato che c'era il lag Altrimenti Watcher ho preso Calpi, sparagli No, pippone Raga, non mi ha preso da morto Ma questo era il king dei noob Vai, Calpi 22, 16 Sì, intanto è il king dei noob, regà Sono io perché sono morto dal king dei noob Ma cosa fanno? Ma cos'è? Ma che cacchio è successo? Ah, porca misura Complimenti Calpi, io direi di iniziare dalla jeep Che è questa qui, regà Sì, va, è la jeep Va abbastanza veloce La top speed sul piano della jeep E vediamo un pochettino Allora, vabbè, sulla terra ovviamente va molto più piano, regà Perché sulla strada ovviamente ha più aderenza Quindi facciamo un bel drifteno E ritorniamo in strada Ok, let's go Allora, top speed della jeep, regà Attenzione 52 53 54 Dai che arriva a 55 Non arriva a 55, Calpi La top speed della jeep è ufficialmente 54 km orari Mentre quello che volevo provare prima della jeep in realtà Era il camion, Calpi Perché il camion è quello su cui io sono più curioso Ti dico la verità Sono veramente stracurioso Beh, io sono più curioso sull'amborghini 1 Vai Ok, no, ma perché il camion pesa molto Il camion va più forte della jeep What? Fai 60 Oh Ma com'è? 63 63 63 64 Oh Regà Perché? Il camion va fortissimo Dai, regà, allora Il primo che vuole provare è assolutamente il camion E, Calpi, sai che ci servirebbe un po' di carburante? Aia Ti se la metti, se la metti, se la metti Oh mio Dio Porca che capiva la lamborghina Anche da me io non ho un po' La lamborghina La lamborghina deve essere mia Mannaggia lui Calpi, te non hai armi, hai qualcosa? Eh, no Cioè, sì, ho armi Però c'è un tizio qua davanti a me Ok, io faccio così Prendo il mio bel camioncino Faccio il pieno di benza E, ehm Oh, prendi ste cacchie di pompa Falso, stavo dicendo Il pieno di benzina, Calpi E lo portiamo in un posto magari un po' più sicuro Te darmi come sei messo, Calpi? Io ho tutto Pompa, aereo, mitraietto Però non ho shield Per esempio darmi qualcosa Pensarlo Che io ho un famas verde Ho un famas verde Se com'è Adesso non è che posso fare magia con un famas verde Comunque il carburante l'ho messo al 100% Esatto Calpi, ti porta Qua c'è un'altra auto Ok, si fa quella lì Ok, quella lì è l'utilitaria, Calpi Non ci serve Ah, ok, fa schifo, scusa Allora, le auto utilitarie A me, no, mi piacciono Perché sono Allora, secondo me le migliori sono La Lamborghini perché va fortissimo Oppure il camion Perché comunque si ha un sacco di vite E va forte anche quello Vai Grazie, Calpi Grazie, grazie, grazie Un po' di materiali ce l'hai A me No, 20 Perfetto A me non piace tanto la Jeep La Jeep Perché è aperta Quindi ti sparano È vero, non ha molto senso la Jeep Anche perché non va così forte Poi bisogna dire la verità Calpi, però Sarà la macchina Che dovrei prendere ora Perché in questo momento Voglio attestare camion e Jeep Quindi Prima camion Esatto Prima camion Poi Jeep E iniziamo a costruire appunto La scala enorme Insomma per far partire la sfida Calpi Ah, Calpi Ti doi una bella notizia Però i veicoli Non hanno danno da caduta Zero danno da caduta Sì, però io ti dico una cosa Come cavolo riempio Qua la Allora prendi Robolo Vicino al veicolo E premio il caso per sparare Ok, ok Fighissimo Sei proprio un incompetente Nei veicoli comunque Sei proprio un incompetente Io pensavo fosse una cosa Oh, c'è gente Ma come c'è gente Calpi C'è un utilitario È la tua auto preferita Ma no, mi fa schifo l'utilitario Io comunque sono Più o meno 500 di materiali Calpi Quindi dai Io ti dico che più o meno Sono morto Ma come sei morto Ma dai Calpi Ma sei sempre No, non ho fatto Sei sempre il solito Porca miseria Quello che non mi hanno ancora intanto Non ti hanno ancora intanto Allora che cacchio dici Che sei morto Sì, ho capito Ma questo qua sembra cattivo Te lo dico Beh, ok Non sembra L'ho visto L'ho visto Mannaggia lui Niente Calpi Mi toccherà prendere l'utilitario Per tornare in giro Le dico Vai Dov'è il tizio? Vai, mori Mi piace come T'ho stilato la kill E soprattutto Come ce l'avevo davanti fermo E non riuscivo a mirarlo Con il top Complimenti È importante Grazie Calpi Vai, sali No, in senso Prenditi la jeep Vai Vediamo un po' l'utilitario Regà, l'utilitario è comunque No, non viaggio per un cacchio Che cosa sto dicendo? No, no, infatti l'utilità No, non lo so Però secondo me Farà circa come il camion Non ha proprio senso Scusa un attimo Cioè che senso ha allora? Esatto Però vai Quanto fa? Cioè nel senso Nelle curve non è male Ma cosa vuol dire? Ma scusa Eh vabbè Cosa stai dicendo Calpi Me lo spieghi? È una jeep È fatta per il fuoristrada Non è fatta per le curve Per le curve La Lamborghini Potrei dirti che non è male Perché la Lamborghini Sono con te Assetto basso Vai, ok Calpi prendi più legno che puoi Più legno e più materiali che puoi Proprio tanto, tanto, tanto Calpi perché dovevamo fare Una roba gigantesca Una rampa enorme La rampa più grande Che Fornet abbia mai visto Sì dopo arriva un abbetto Ci spacca Oh, oh Tanica di benzina Perfetto Vai Calpi Vai Calpi che abbiamo la tanica Ok Ora il tuo compito È di costruire la rampa Il mio compito È quello di portare I veicoli sulla rampa Calpi Secondo me la safe sarà Intorno alla zona di fattoria Comunque sia Tra fattoria e mori Ecco Quindi io direi Che lì potrebbe essere Appunto il posto In cui sorgerà La nostra enorme rampa Gigantesca Calpi Quattino 3, 2, 1 Ok Ci ho quasi preso Calpi Fattoria Allora cosa vogliamo fare? Eh a sto punto La facciamo qua direi Qua c'è pure la Borgine Uh vai ok Allora Calpi Io inizio a preparare la rampa Vai Perfetto Io la inizio a costruire Vai ok Sì forse non è proprio La zona migliore Per fare una rampa Però va bene Io la inizio a costruire No invece è perfetta Riga come zona E sapete perché è perfetta Vai Calpi Te inizio intanto Vai Sì io sto A portare i veicoli Davanti alla mia rampa Sì sì lo sto facendo Vai 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 Calpi non è che se tu Adesso Non è per dire niente Ma non è che se tu Con il veicolo Colpisci La base della rampa Distruggi tutto Eh infatti Infatti dobbiamo stare attenti E fare più di una scala Calpi deve andare molto piano Ok Allora più che altro Non tanto fare più di una scala La riconsungo anche da questa parte Let's go Riga Rompiamo tutti gli alberi di mezzo E siamo pronti A testare La top speed Del camion Della Lamborghini Dell'utilitaria Di tutte le altre auto di Fortnite Calpi La Lamborghini è troppo bella Sì la Lamborghini è bellissima Calpi stavo dicendo Tu sai quanto Non lo so Hai qualcosa per curarti Cure Ah no no Zero Zero Cioè se vuoi Io ho un ferro vicino Va bene Poteva servirmi in realtà Per costruire la scala Potevi dirmelo prima Cavolo L'ho trovata adesso Va bene va bene Calpi perché non mi stai portando i veicoli L'ho portata La Lamborghini Adesso sto portando Vai Calpi vieni qui Siamo pronti Ok arrivo arrivo Oh mio dio raga Io vi giuro che non vedo Dove la rinforziamo Un attivino intanto Un pochettino sta scala Perché Rialgio tutto piango Perché Piango Però ok Calpi Prima di tutto No 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 Però direi che ci sta Guarda che dall'altra parte Ma dovevi fare due scale Guarda che dall'altra parte è alta alta Se facciamo una sfida Come facciamo Calpi sei pronto? No io voglio solo vedere la top speed Ok Vado io allora Fermati 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 Appena sei su fermati Calpi vai 3 2 1 Vai 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 Calpi tutto gas Tutto gas Quanto fai? Quanto fai? 80 90 90 Più di 90 90 90 Ok 90 Camion Tentate per prendere la Lamborghini Vai 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 Oddio Vai 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 veloce No 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 Si sta ribaltando No Calpi Calpi no 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 Calpi il camion è troppo ingombrante da guidare Dovevi fare due scale No cavolo Ok aspetta che ci riprovo T'è andato Calpi Guarda la Lamborghini Però la Lamborghini la voglio testare io Calpi Eh vabbè Quello La Lamborghini Io ti chiedo solo questo Ma la Lamborghini fa meno testare Comunque Calpi Ci rimangono 100 secondi Sei vero Eh va bene Tanto ce la facciamo Ok Riempi Riempi sto robot Io ho droppato il fuel qua sotto Ok No che non è niente 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 Vai 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 No Aspetta Calpi muoviti Fa fare a me fa fare Oh mio dio Sei proprio in Calpi 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 Ok vai Fai tu fai tu Mannaggia te Ok vai andiamo 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 Il fuel c'è Porta il camion Porta il camion qui Ancora? Sì Dov'è il camion? È lì non lo so Ah ok L'ho visto L'ho visto Regà pronti? Tre Oh mio dio Due Uno Vai Oddio 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 Fra Oh Novanta Ah no No Novanta è il limite Ma come? Novanta è il limite massimo Di qualsiasi auto No di qualsiasi auto Regà Ma io credo What ma al turbo Una Lamborghini fra Ma com'è il turbo? Fra la Lamborghini al turbo Ma che figata Cosa? No vabbè regà non ci credo Fermo 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 Calpi 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 Dico se è di toglierti Vai Calpi Sì Oddio Abbiamo purato regà che 90 è il limite ufficiale Ora Calpi voglio vedere solo una cosa Se con la mia Lamborghini riuscirò ad arrivare in safe Prima Di morire Vai Vai Lamborghini Vai Lamborghini Io direi che sono messo un po' Non in auto Eh non in auto Non in Vabbè Calpi mi sa che sei completamente morto Cioè ormai non ti posso riferire Qua c'è un fallo No Carburante ridotto Porca miseria No regà non ce la faccio 25 secondi 24 secondi Vai uso un po' di carburante Regà ma mi tocca bustare Ok mi tocca Rifornire 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 Vieni qui Vieni qui Vai carburante 10 14 Vai Ok Guida Guida No Togli 2 3 2 1 No Cavolo Niente Calpi Vabbè io ci ho sperato fino all'ultimo Ma te avevi le cure No io avevo solo il fallo lì che l'ho trovato Ah il fallo cavolo Eh vabbè Calpi Comunque abbiamo scoperto che tutte le macchine sono limitate ai 90 Sì è tristissimo No Io volevo È tristissimo Cioè il camion regà indiceso va veloce quanto la Lamborghini Calpi ma in retromarcia sono assurde comunque sia queste macchine Guarda Fale partire da ferme in retromarcia Cioè hanno un'accelerazione incredibile Porco cacchio Specialmente i camion Oh ma è vero Ma anche le jeep È vero Detto questo regà Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordi ancora di questo volto Un bel like Quello che vi è piaciuto Gettro in città Il prossimo iscrivete al canale Ciao 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 Ciao